Molto brevemente, anche per permettervi di tornare rapidamente in Italia per chi deve rientrare, è stato un summit molto interessante, devo dire, mi sono grato alla Cancelliera Merkel, al Presidente Obama, oltre che naturalmente al Primo Ministro Cameron e al Presidente Hollande per questa occasione di incontro, una discussione di un paio d'ore su tutti i principali temi e dossier rilevanti a livello internazionale, quello che forse ci riguarda più da vicino è quello relativo alla situazione in Libia, dove ho registrato una grandissima disponibilità, c'è una disponibilità rilevante da parte della comunità internazionale e questo è un cambio rispetto a quello che accadeva fino a un anno fa, voi ricordate che un anno fa il tema europeo era la questione immigrazione, la questione Libia non sono delle priorità ma sono delle questioni che stanno sostanzialmente in carico all'Italia, adesso il clima è profondamente diverso, questo mi sembra un fatto positivo, c'è una piena disponibilità e pieno sostegno allo sforzo del governo Alcerraggi, quindi per noi questo è un fatto straordinariamente positivo, tutti insieme dobbiamo fare di tutto perché lo sforzo del governo Alcerraggi abbia successo, tutte le iniziative che si vorranno prendere di sostegno e di supporto a questo governo dovranno essere richieste dal governo Alcerraggi medesimo, quindi credo che da questo punto di vista sia un fatto importante, positivo, noi siamo naturalmente convinti che questo debba andare di pari passo con l'attenzione alla lotta contro il terrorismo e contemporaneamente al tentativo di risolvere la questione migratoria. Su questo apro e chiudo una parentesi perché sia chiaro, almeno nella discussione italiana, nella stampa italiana, i numeri di cui parliamo sono numeri inferiori al 2014 e sostanzialmente gli stessi del 2015, questo è un passaggio molto importante, ve li do per correttezza, il 2014 al 25 aprile erano 27 mila gli arrivi dalla Libia e alla fine dell'anno siamo andati a 170 mila, nel 2015 erano 25 mila 200 e alla fine dell'anno 150 mila, nel 2016 siamo a 25 mila 600, quindi c'è sostanzialmente un livello equipollente a quello del 2015 e più basso del 2014, questo perché si è fatta giustizia anche di alcuni allarmi e di grande preoccupazione che vedo, naturalmente tutto ciò non significa che non dobbiamo avere una straordinaria attenzione, c'è la disponibilità che è stata ribadita dal Presidente Obama a discutere di un eventuale impiego di mezzi Nato per bloccare il traffico di uomini e gli scafisti, noi li chiamiamo schiavisti, è una disponibilità che credo vada apprezzata e naturalmente messa in relazione e in sintonia con ciò che già sta facendo l'Unione Europea e sempre naturalmente con il coinvolgimento del governo libico. Abbiamo discusso poi di molte altre questioni, dalla Siria alla questione Ucraina, trovo che sia stato un appuntamento importante, però ci venevo a sottolineare soprattutto il punto della Libia che credo ci riguardi direttamente. Se ci sono domande? Il Presidente, il Primo Ministro ha fatto una richiesta ben precisa per aiuti per la protezione internazionale dei fossi di petrolio tenendo attentati a questi fossi di petrolio, nelle sue parole c'è ancora una risposta a questa richiesta? Prendiamo tre o quattro domande insieme, anche lì. Mi sforzo comunque a quello che lei ha chiesto il prega, però volevo anche chiedere per quanto riguarda i migranti, dopo anche il risultato elettorale che c'è stato in Aft, che ha riscontrato da parte di tutti i bambini oggi la piena disponibilità a evitare che ci sia una chiusura del Brenner. Sull'Ucraina, se posso invece scusi per quanto riguarda le sanzioni, qual è la posizione dell'Italia rispetto al rinno delle sanzioni a giugno nei confronti della Russia? Volevo chiedere invece su un dossier che ieri è stato discusso molto l'Obama e Merkel, apprezzato finalmente quello del TTIP, perché qualche giorno in tedesco nei giorni scorsi ha insinuato che l'Italia potrebbe proporre una versione light, non so se ne so bene come potrebbe essere, però ecco, volevo capire qual è la posizione sull'Italia sull'accordo transatlantico e anche io volevo chiedere sulle sanzioni in Russia, anche lì i tedeschi scrivono ormai da giorni che l'Italia invece è più dubbiosa, vorrebbe frenare su un approfondamento delle sanzioni. Libia, Brennero, sanzioni, TTIP, Russia, l'ultima. Commenti particolari anche da parte di Obama sulla questione Austria-Brennero e avanzamento delle forze populiste? L'ultima. Provo a sintetizzare le domande che sono molto impegnative, ma diciamo tre o quattro in sintesi. Libia, noi siamo impegnati a lavorare con il governo al Serragi, ci sono in queste ore evidenze di possibili richieste in alcuni settori, non ci riferiamo per intendersi ai pozieni, ma ad altre strutture, così come per questo punto o sull'accordo Italia-Libia o su ciò che avete detto a proposito dei migranti, noi confermiamo la linea di fondo. La linea di fondo è quella di un rapporto molto forte con il governo al Serragi che intendiamo sostenere e che quando avrà da formalizzare delle richieste la comunità internazionale troverà nell'Italia un partner sensibile. Quindi dal nostro punto di vista l'interlocuzione è con il governo pronti a dare una mano all'interno della comunità internazionale dentro un progetto complessivo, quindi quando si imporrà il tema dell'accordo Italia-Libia, della formalizzazione di richieste formalizzate, quindi non annunciate, della questione migratoria, per esempio sono molto convinto che con l'accordo con la Libia si ridurrà il numero dei migranti, se noi arrivassimo a fare un accordo con la Libia è evidente che si può fare ciò che è stato fatto in passato con la Tunisia o ancora prima con l'Albania, quindi l'ipotesi di un accordo con la Libia sarebbe molto importante anche non solo per la migrazione, questo è il primo pacchetto di risposte, quindi con la Serrage siamo pronti, discutiamo e vedremo a tempo debito tutte le varie singole questioni, però il dato di fatto che voglio dire ai cittadini italiani è che c'è un passo in avanti e mica da ridere, il passo in avanti è che adesso c'è un governo, va aiutato, va supportato, deve ancora avere una serie di passaggi formali, l'autorevolezza di questo governo va sempre più implementata e sostenuta, credo che il governo libico oggi incassi un riconoscimento importante perché gli Stati Uniti d'America insieme ai quattro paesi membri del G7 danno un endorsement significativo e pieno al tentativo, al governo, non al tentativo, al governo di Al Serraggi, agli italiani dico è chiaro che se si fa l'accordo con la Libia è tutta un'altra musica rispetto a quella che abbiamo visto in questi anni, in questi anni non hanno visto l'esodo di libici, ma hanno visto la presenza in Italia di tanti cittadini africani che partivano dalla Libia, poi magari erano nigeriani o eritrei, ma partivano dalla Libia diventata terra di nessuno, su questo direi che possiamo chiudere il capitolo Libia, questione migrazione a Europa, noi abbiamo fatto una proposta articolata, come sapete il Migration Compact, è un'operazione che credo abbia un grande senso, è un grande investimento in Africa, è anche la risposta a chi dice, ma voi dovete fare progetti non sporadici, ma progetti di medio periodo per l'Europa, lo abbiamo fatto sull'economia, lo stiamo facendo sull'immigrazione, non dimentichiamo che il progetto più significativo che l'Italia ha fatto è quello sulla cultura, un Euro in cultura, un Euro in sicurezza, che è una rivoluzione per il modo di concepire tradizionalmente la sicurezza degli europei, quindi stiamo lavorando su questo orizzonte di medio periodo. La questione del Brennero è molto semplice, non c'è alcun elemento, alcuno che giustifichi la chiusura del Brennero, punto. E quindi noi pensiamo che le autorità austriache non potranno fare altro che rispettare la normativa europea e che se questo non fosse saranno le istituzioni europee a prendere le conseguenze necessarie. Perché il Brennero è un simbolo? Perché il Brennero è uno strumento, un luogo di lavoro per tante donne e uomini, la Germania, l'Austria e soprattutto il nord-est italiano sono collegatissimi, in alcuni aspetti potremmo parlare di un unicum economico come area regione tra la zona della Germania meridionale, l'Austria e il nord-est italiano. Se ci fate caso ci sono delle filiere intere che lavorano insieme e quindi il Brennero è uno strumento, è un luogo di transito fondamentale. Naturalmente noi stiamo attenti ai numeri, alla situazione della migrazione, ma ripeto il concetto, perché almeno sia chiaro anche a chi sta fuori da qui, anche ai non italiani, i numeri italiani dell'arrivo di migranti sono più bassi del 2014 e gli stessi del 2015, punto. Questa è la realtà. Per intendersi, noi l'anno scorso abbiamo avuto 150 mila persone, la Germania è più di un milione, uno ha dieci e non aumentare i numeri, punto. Poi ciascuno può parlare di quello che crede, ma questa è la realtà. Rispetto alle elezioni in Austria, ovviamente noi rispettiamo il popolo austriaco e le sue decisioni, non vi è stata naturalmente la discussione sul democratico vuoto di un grande paese con grande storia come l'Austria, non è che ci mettiamo a discutere di chi vince e chi perde, ciascuno di noi ha le proprie valutazioni, poi se volete vi dico la mia, e cioè che occorre avere un'Europa capace di investire sulla crescita, se vogliamo sconfiggere il populismo e la demagogia. Più che giocare sulla difensiva bisogna andare all'attacco e raccontare ciò che è sempre stato l'Europa, un grande luogo di libertà, di democrazia e quindi come ha detto, devo dire, questa mattina il Presidente Obama alla fiera di Hannover, l'Europa è questo grande sogno e deve tornare a investire sulla crescita. Per questo la posizione sul TTIP italiana è la posizione che conoscete dai documenti italiani, non dalle indiscrezioni dei media tedeschi, con tutto il rispetto per le indiscrezioni dei media tedeschi, quindi noi siamo impegnati in una trattativa, in un negoziato, siamo favorevoli a che questo si concluda, siamo tra quelli che spingono perché si concluda, naturalmente nel rispetto di tante specificità che tutti noi dobbiamo giustamente difendere. Io per esempio sono sempre più convinto che più c'è una libertà di commercio mondiale, meglio è. Contemporaneamente mi piacerebbe che si affermassero le ragioni del made in che alcuni paesi europei ad esempio non vogliono, ma adesso non è questa la sede per fare discussione. La questione ucraina è una questione molto complicata, come sapete, noi siamo naturalmente al tavolo della comunità internazionale e come tali abbiamo la stessa posizione degli nostri altri colleghi, sotto lei mi parlava delle indiscrezioni ancora una volta dei media tedeschi, io credo che se uno vuole porre l'attenzione sulla necessità di aiutare l'Ucraina non si preoccupa tanto della posizione del governo italiano quanto del progetto del Nord Stream, perché il raddoppio del Nord Stream, che è un'operazione che come sapete ci ha visto molto discutere anche in sede di Consiglio Europeo, è un'operazione che taglia fuori l'Ucraina. Un anno fa abbiamo detto di no al South Stream per non tagliare fuori l'Ucraina, adesso come facciamo a dire di sì al raddoppio del Nord Stream, partendo dal presupposto che il Nord Stream è un pipeline, una strumentazione che non è neanche utilizzata in toto al momento, però devo essere sincero su questi singoli argomenti, abbiamo soltanto iniziato la discussione, ma credo che avrà poi i tempi tradizionali, credo che il Consiglio Europeo ne parlerà, immagino, nel Consiglio Europeo di giugno. No, 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 del tema Ucraina, del lavoro, del processo di Minsk, delle sanzioni, di tutto questo capitolo qui la discussione sarà fatta credo al 23-24 giugno, che poi penso sia stato spostato di qualche giorno perché c'è il referendum inglese, quindi sarà il 28-29 di giugno. Bene, la sintesi finale è questa, molto bene, l'Italia è a questi tavoli internazionali con rinnovata credibilità anche alla luce della ritrovata stabilità e credo sia un fatto positivo, scherzando all'inizio, perché abbiamo parlato all'inizio delle riforme costituzionali italiane, del referendum, ho scherzato con il Presidente Obama e con il Primo Ministro Cameron, proprio mentre stavamo iniziando la discussione, quando stavate arrivando i fotografi a fare la foto, per raccontare di come l'Italia ha avuto in 70 anni 63 governi, potete immaginare la faccia che hanno fatto, lo sapevano immagino, però è sempre una sorpresa sentirselo dire, bene, al netto naturalmente delle discussioni interne sulla riforma costituzionale, il punto centrale è che la ritrovata stabilità è un asset anche per la politica estera del nostro Paese, la quale politica estera è sicuramente incentrata sul Mediterraneo, lavoriamo molto anche in altri scenari di cui non vi ho parlato, ma che sono stati oggetto della discussione, l'Iraq, la diga di Mosul, i 2100 carabinieri che fanno addestramento, il gruppo contro il finanziamento di Daesh che è co-coordinato dall'Italia ed è un patto importante, come la lotta al terrorismo globale dal punto di vista finanziario, considerate che dai dati che noi abbiamo, Daesh ha anche un problema di liquidità economica, finanziaria, paga meno di prima le persone che combattono per Daesh, è un fatto positivo, dunque è un segnale di cambiamento, l'Italia ha lavorato su questo, l'Afghanistan, non abbiamo avuto modo di parlarne, ma è un altro grande tema, l'Italia come sapete quest'anno ha aumentato il proprio ruolo, anche perché gli spagnoli non hanno rinnovato il proprio impegno, quindi Italia, questo è un tema che non è che serve poi particolarmente a noi, sapete quanti sono gli afghani arrivati in Italia via nave nei primi quattro mesi? Uno, via terra circa 400, quindi stiamo parlando di numeri molto piccoli, in Germania invece è un tema sentitissimo e poi noi lavoriamo per la comunità internazionale, ecco quello che vorrei dire è che questo incontro è stato importante una volta di più per sottolineare come su tutti i principali dossier di politica internazionale, il lavoro che sta conducendo il Ministro degli Esteri e con lui tutte le strutture, l'intelligence e il lavoro naturalmente di Sponda con Palazzo Chigi, sta dando una serie di frutti, lo abbiamo visto ieri in Europa, nei giorni scorsi in Europa con l'ottimo lavoro del Ministro Padan, lo stiamo vedendo nelle proposte che stiamo avanzando in sede istituzionale e credo che sia un fatto di grande positività, ovviamente poi i risultati che piano piano stanno arrivando sono risultati importanti, ci vengo però a dirvi che quello che è fondamentale è che la realtà sia più forte di ogni allarmismo, la situazione migrazione va monitorata, controllata, ma i numeri e l'ho fatto vedere numericamente ai colleghi con i dati, sono numeri profondamente diversi da quelli che si leggono sui media, dagli allarmi che si leggono sui media, detto questo bene stare attenti, bene intervenire, ben vengano le iniziative della Nato e se poi in Libia si consolida il governo finalmente potremo mettere la parola a fine all'emergenza che ci ha caratterizzato in questi tre anni, quindi al lavoro tutti, grazie per la vostra pazienza, per il vostro supporto, buon lavoro e buon rientro in Italia a tutti. Ciao ragazzi, arrivederci a tutti.